Il Roseto Comunale di Roma si trova vicino al Circo Massimo ed è aperto solo ed esclusivamente nel periodo di fioritura delle rose. Dopo una passeggiata ai fori e al Circo Massimo, una passeggiata al Roseto è quasi d'obbligo. Il Roseto Comunale Il Roseto Comunale Il Roseto Comunale Il Roseto Comunale Il Roseto Comunale